Ciao ragazzi, video che non era in programma ma che ci tenevo a fare perché voglio dire due cose veloci sull'inizio di questa domenica, il titolo è pranzo perfetto perché effettivamente non mi aspettavo neanche nelle mie più rose aspettative questi risultati, ho fatto zapping quindi è un'analisi sui risultati perché non ho potuto vedere una partita completa perché ho visto sia Roma fiorentina femminile che Inter Cagliari maschile e insomma qua è stata una bella sorpresa entrambe le cose e quello che posso dire che mi dava la sensazione che l'Inter e questa è una sensazione che ho da un po' di partite che se non chiude la partita non va sopra di due gli ultimi minuti poi li soffre parecchio mentre invece chiaramente se la chiudeva probabilmente non sarebbe non non sarebbe finita così, probabilmente se andava sul 2-0 la partita sarebbe finita è incredibile però le scene che sto vedendo cioè Lautaro che sblocca in una maniera pazzesca mi ricorda quello che fece Higuain col Milan contro la Juve e col Napoli contro l'Udinese cosa che, cioè ma lì non mi sorprende Lautaro perché sono reazioni umane, sono reazioni umane a me sorprende che non ci sia stato uno come Godin, cioè uno comunque che hai un'esperienza tale per poter fare queste cose, a prendere e dire non fare cazzate po', già e invece boh, tra l'altro tavola anche ragionando sul fatto di Eriksen qua sto sentendo dire che Eriksen poteva fare... io Eriksen oggi non avrei capito dove metterlo perché dovresti tutto togliere o Sensi o Barella che secondo me sono stati due dei migliori quindi non credo che il risultato sarebbe cambiato con Eriksen e tra l'altro gol di Lengolan quindi pure la beffa dell'ex ma le scene che ho visto a me, cioè ripeto Lautaro, Conte, Conte che va dall'arbitro a gridare cioè l'allenatore dovrebbe fare quello che ha fatto Oriali cioè protestare ok però bloccare gli animi e poi ci parlo io con l'arbitro e invece ovviamente non è andata così perché vabbè tra l'altro ha lasciato lo stadio abbandonando la scuola nello sbogliatoio e lui è andato fuori per i cavoli suoi, cosa gravissima, gravissima al di là del silenzio stampa in sé e poi che cosa c'è che c'è da aggiungere ragazzi? hanno preso, secondo me veramente l'hanno presa proprio male e poi vabbè l'immagine di la Nokia che sputa verso il quarto uomo è orrenda e mi auguro che si prenda provvedimenti, più che su Lautaro su Granocchia in più la Roma femminile pareggia al 94esimo contro la Fiorentina e noi ci troviamo a più 8, a più 8 sull'inseguitrice quindi veramente questo anche per il discorso campionato femminile è ottimo veramente perché c'è più di così non poteva andare meglio di così veramente ragazzi ragazzi io non è che ho molto da aggiungere, lo ripeto era un video così tanto per crogiolarmi un po' di questi risultati e ragazzi vi invito, vi ricordo gli appuntamenti per oggi ieri poi lavorando non sono riuscito a fare il video post Juventus 23 perdonatemi, ho fatto quello primavera e quello femminile dunque oggi farò il video post Napoli Juve ovviamente stasera ma pomeriggio uscirà anche un post, cioè non un post uscirà un video con il riassunto del mio intervento di ieri a Radio Bianconera quindi ovviamente non perdetevi lì e ragazzi a me non resta che darvi appuntamento con i prossimi video ciao a tutti